signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale e ritorniamo dalla pausa di agosto in cui abbiamo visto i dettagli di come si costruisce ambientazione e anche un inizio di come poterla presentare realmente a un pubblico adesso però è arrivato il momento di riprendere con la programmazione regolare del canale e tra l'altro siamo arrivati alla nona stagione del master cae in realtà non ancora il complano del canale tra un paio di mesi quindi avremo tempo di festeggiare più avanti non so esattamente festeggiare cosa ma è sempre una buona scusa per festeggiare questo però è il primo video dal ritorno alla pausa estiva e chi segue il canale sa esattamente cosa questo voglia dire è arrivato il momento del mio video predicativo e paternalistico sulle buone pratiche del masteraggio e dato che in questa stagione ho intenzione di rifare un po dei vecchi video della prima stagione sono invecchiati veramente male l'argomento e la predica di quest'anno è abbastanza scontato il titolo l'avete visto in questo video andiamo a parlare del perché sia importante tornare indietro e riesaminare i propri lavori precedenti e acquisire informazioni da questo per continuare a migliorarsi perché proprio i propri lavori precedenti abbiamo intero video per spiegarlo cominciamo introducendo un concetto importante che probabilmente sembra qualcosa di estremamente banale quindi viene dato per scontato tutti migliorano con l'esperienza si come ho detto sembra scontato però seguitemi il discorso potenzialmente potrebbe essere fatto in qualsiasi ambito ma questo il canale del masterca e parliamo di masteraggio quindi ci limiteremo all'ambito del masteraggio non sono qui per darvi lezioni di vita quando avete cominciato a masterare probabilmente avevate in testa già delle idee su che cosa avreste dovuto fare quale sarebbe stato il vostro ruolo magari avete provato a emulare il master che aveva masterato per voi fino a quel momento magari avete chiesto a qualcuno di spiegarvi le basi magari siete andati a cercare informazioni guardando video come questo leggendo blog discutendo su internet quello che è comunque un'idea di che cosa vi aspettava probabilmente ce l'avevate altrettanto probabilmente vi sarete accorti molto rapidamente che probabilmente quell'idea era totalmente sbagliata molto di quello che avevate immaginato avevate letto in giro vi avevano detto per voi non funzionava però c'erano delle cose che magari vi avevano detto di non fare o non vi avevano proprio detto e quindi avete scoperto da soli che invece per voi funzionavano molto meglio questa è una cosa perfettamente normale per quanto nel gioco di ruolo come in tutti gli ambiti esistano vari aspetti generali imprescindibili nella pratica ogni master è un individuo con i suoi punti di forza i suoi punti di debolezza e ogni tavolo da gioco è un unicum composto da determinati giocatori che hanno determinate preferenze è perfettamente normale che quello che funzioni per una persona non funzioni per un'altra ed è perfettamente normale che voi a un certo punto abbiate capito quello che funzionava per voi e per i vostri giocatori e abbiate cominciato a fare quello questo è un percorso comune a tutti i master chiunque si sia mai messo a capotavola a condurre il gioco per un gruppo ha vissuto esattamente questa esperienza ora io non so chi realmente vedrà questo video quindi può anche darci che ci sia qualcuno che non è ancora abbastanza avanti nel suo percorso come master e quindi tutto quello che ho detto finora in realtà per lui non è condivisibile anzi poi in mente l'ha lasciato confuso nel caso non ti preoccupare è perfettamente normale ti ci vorranno mesi più verosimilmente anni per afferrare del tutto le basi della logica del gioco a cui stai giocando e del comportamento del tavolo che stai masterando e soprattutto per smettere di andare nel panico ogni volta che le cose non vanno come te le immaginate ci siamo passati tutti all'inizio tutti sono in agitazione perché pensano che se sbagliano una regola sbagliano una scena sbagliano un incontro il peso dell'intero mondo crollerà sulle loro spalle loro avranno per sempre rovinato allegria il divertimento di tutti quelli che stavano giocando con loro nella maggior parte dei casi nessuno si accorgerà di nulla e se qualcuno ti ha mai detto che per lui masterare è stata una cosa del tutto naturale lui è stato bravo fin dall'inizio anzi chiunque non sia un talento naturale dovrebbe rinunciare le cose sono due probabilmente sta semplicemente mentendo per lagarsi nell'altro caso che purtroppo per lui è probabile che abbia talmente poche reali competenze nell'ambito dei gdr da non rendersi neanche conto che non sa cose fondamentali per il master che in poche parole vuol dire semplicemente che fa schifo ok scusate la digressione ma era qualcosa e doveva essere detto a favore dei più giovani tornando a noi ora che è passato del tempo avrete continuato a migliorare anche solo per il banale esercizio di ripetizione più masterate più vi viene naturale farlo e in più probabilmente avrete acquisito anche nuove informazioni sia dall'esperienza diretta sia parlando con altri master panno con i giocatori guardando video come questo leggendo i blog tutto quello che abbiamo detto prima e dato che voi siete qui a guardare questo video mi sembra abbastanza scontato che abbiate cercato anche altre informazioni in giro durante tutto questo percorso di crescita avrete maturato nuove esperienze avrete migliorato il vostro stile avrete imparato cose nuove e probabilmente guarderete alle vostre prime esperienze come master con un misto tra l'imbarazzo e l'umorismo per quanto eravate inesperti all'epoca il fatto però è che con l'andare del tempo si tende a dimenticare i dettagli e alla fine soprattutto se sono passati anni ci si ricorda solo delle cose che ci hanno colpito di più quelle che hanno suscitato le maggiori reazioni emotive tutti i dettagli e anche il contesto in cui sono avvenute va perso probabilmente ricorderete la prima campagna che avete masterato ma se vi chiedessi di elencarmi le varie sessioni a memoria poi mentre non ricordereste nulla anzi ovviamente vi ricordate qualche episodio che è successo una cosa che ha fatto molto ridere la prima volta che il party ha fatto qualcosa di estremamente astuto o al contrario estremamente stupido che vi ha lasciato sbalordito se questo è successo veramente molti anni fa come me per tutti gli altri vecchi che guardano poi in mente anche questi dettagli sono nati perduti e avrete più che altro una memoria del a quanto ci divertivamo ai tempi dell'advance dnd o al contrario oddio quale è stata orribile la mia esperienza con l'advance dnd per fortuna non l'ho più ripetuta e questo lo voglio precisare soprattutto per quelli che hanno raggiunto gli anta come me c'è sempre il rischio che la nostalgia tenda a tingere di rosa il tutto il passato facendolo sembrare molto migliore di quello che è stato in realtà si vi divertivate un sacco a quella campagna di mutant mastermind che tenevate al liceo ci mancherebbe altro avevate 17 anni e il più grosso problema che avevate nella vita era decidere se era più figo city hunter o che nel guerriero è ovvio che era un momento molto felice quale fosse il gioco a cui stavate giocando e il modo in cui stavate tenendo le sessioni probabilmente però non erano così fondamentali adesso che sono passati anni però sarebbe meglio che vi fermaste vi guardaste indietro magari riprendete il manuale o il materiale che avevate scritto all'epoca e riproviate a organizzarli in maniera critica e disinteressata senza né andare a rinvangare nostalgia e ricordi e neanche al contrario limitarvi a bollare tutto come roba stupida che facevamo da ragazzini senza alcun valore nel mondo attuale tutto questo perché il processo di crescita e di maturazione di un master è importante tanto quanto i risultati ottenuti tutto quello che voi fate adesso come master che ve ne rendiate conto o meno dipende dal fatto che inizialmente facevate qualcos'altro e poi nel corso del tempo avete affinato le vostre abilità avete modificato il vostro comportamento fino ad arrivare a fare quello che fate in questo momento il proverbio dice che sbagliando si impara ma si corre sempre il rischio che dopo un po che si è imparato le cose si fanno in maniera meccanica e ci si dimentica qual era l'errore che ci aveva portato a modificare il nostro comportamento adesso che avete l'esperienza per valutare in maniera oggettiva il lavoro provate a riprendere le cose che avevate scritto inizialmente magari riprendere gli appunti che avevate scritto per una quest giocata anni fa o la prima campagna che avete fatto se avete ancora quel materiale e analizzatele con occhio critico proprio per vedere come realmente gestivate le cose una volta e provare a ricostruire il percorso che avete fatto per arrivare a le decisioni corrette che prendete adesso partendo da quelle sbagliate che prendevate una volta e proprio il processo logico che avete fatto per passare dalle decisioni sbagliate a quelle giuste a essere importante ad avervi fornito la crescita come master che avete avuto anche solo il fatto di ricordare perché sbagliavate vi aiuterà a riflettere molto sul vostro comportamento attuale e magari potreste anche scoprire che non tutto quello che poi nel corso degli anni avete scartato meritava proprio di essere buttato via magari la prima campagna che avete fatto anni fa che è miseramente fallita perché avete cercato di strafare adesso che avete una maggiore esperienza maggiori competenze e anche più fiducia in voi stessi potrebbe essere rivista e riproposta perché voi adesso avete gli strumenti per portarla in tavola ma non l'avete mai fatto semplicemente perché ricordavate che quel metodo era fallimentare quindi non ci avete mai più riprovato o magari potreste anche rendervi conto che all'epoca avete rinunciato a fare qualcosa avete deciso di applicare un determinato stile perché questo era quello che andava meglio con il tavolo dell'epoca che magari era fatto a sua volta ai giocatori non particolarmente esperti ma adesso che giocate con un regolamento diverso con gente diversa avete anche un'età diversa magari molte delle cose che voi avete smesso di fare perché all'inizio non funzionavano adesso potrebbero riprendere a funzionare voi siete più bravi a farle anche i vostri giocatori saranno migliorati e quindi magari saranno più propensi a rispondere bene alle vostre proposte detta molto semplicemente se non ricordate da dove siete partiti sarà molto difficile per voi capire dove siete e soprattutto dove state andando sarà difficile comprendere per voi quanto siete migliorati e quali sono ancora le cose su cui dovete ulteriormente imperiarvi per cercare di raggiungere un ideale di perfezione irraggiungibile ovviamente però lo scopo è quello di diventare sempre migliori nel fare le cose e diciamo che per questo video la chiudiamo qui ho già predicato abbastanza e almeno il primo video dopo il ritorno alla pausa cerchiamo di tenerlo entro tempi ragionevoli come ho detto tutto questo video dasce da una riflessione personale che ho fatto riguardando i miei vecchi video e cercando di capire perché fossi così scarso a girare video nove anni fa non che adesso io sia diventato bravo che sia chiaro e quindi ho deciso di rifarli cercando di presentare un lavoro migliore e soprattutto più fruibile per voi che li guardate comunque come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto scrivetemi anche da una parte quali sono le vostre esperienze che meritano di essere rivalutate e nel caso scrivetemi anche se ci sono dei video in particolare delle prime stagioni che magari ritenete proprio vadano rifatti per i motivi più svariati dedichiamo quest'anno a rivedere anche il vecchio lavoro in previsione della decima stagione del mastercare per il resto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi per attivare le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco del gruppo e telegram dove le metto io manualmente e dove trovate anche la community del mastercare e trovate anche il link a scrivi la tua avventura che per adesso è l'unico oggetto di merchandise del canale se volete avere un canale che non faccia proprio schifo come lo fa adesso come sempre io sono il mastercare e noi ci rivediamo nel prossimo video